Prima ancora che Aaron abbia il tempo di voltarsi, il coccodrillo è su di lui. Le mascelle scattano sulla sua spalla e la vessia lo stringe fra gli artigli, trascinandolo verso i giunchi. Aaron mi molla e ricado per terra, e porto le mani alle ammaccature che mi ha lasciato sullo stomaco. Alzo gli occhi e vedo Aaron che si dibatte nella nembra adesso. Lotta con il coccodrillo, mentre gli altri coccodrilli si spostano nella sua direzione. Via, via, abbia Manche, quasi strepitando. Giustissimo amico, rispondo, e mi rialzo malamente in piedi. Il peso dello zaino che mi sbilancia facendomi baracollare è l'occhio pesto che cerca di riapirsi, e comunque non ci fermiamo, e corriamo, e corriamo, e corriamo. Usciamo dalle paludi e attraversiamo la parte bassa dei campi, fino all'inizio del sentiero dell'acquitrino, e lo seguiamo, e quando arriviamo al tronco, che Manche non riesce mai a scavalcare da solo, stavolta lo supera, senza neppure fermarsi, e io dietro di lui, e continuiamo a correre, diretti negli edifici degli spaccol, proprio come stamattina. E il coltello è ancora stretto nella mia mano, e il mio rumore martella così forte, e sono così spaventato e addolorato e infuriato, che so al di là di ogni ragionevole dubbio che troverò lo spaccol, nascosto nel suo buco di rumore, e lo ucciderò. Sì, lo ucciderò, lo ucciderò per tutto quello che è successo oggi. Dov'è? chiedo a Manche. Dov'è il silenzio? Manche vanno usando come un matto, correndo di edificio in edificio, e faccio quel che posso per calmare il mio rumore, ma non pare esserci in modo di riuscirci. Presto, dico, prima che scappi, e ho appena finito di pronunciare queste parole quando lo sento, quello squarcio nel rumore, grande e orribile quanto la vita stessa. Lo sento poco spostato, dietro gli edifici degli spaccol, dietro i cespugli. Non mi sfuggirà stavolta. Silenzio abbaglia Manche, tutto agitato, e corre dietro gli edifici per scuovarlo tra le siepi. Il silenzio si sposta, anche lui, e anche se sento di nuovo la pressione sul petto, le cose terribili e dolorose che mi arrivano agli occhi, stavolta non mi fermo e ispiro e deglutisco per provare a scacciar via l'oppressione, e mi asciugo le lacrime dagli occhi, e stringo il coltello e sento Manche che abbaia, e sento il silenzio, ed è appena dietro quest'albero, e grido e giro attorno all'albero, e mi lancio verso il silenzio, dirignando i denti, e urlo, e Manche abbaia, e... E mi blocco. Mi blocco proprio lì sui miei passi. Non lascio. Assolutamente non mi lascio cadere di mano il coltello. C'è e ci guarda, respira ansimante, racconvacciato alla base dell'albero, e si ritrae spaventato da Manche, gli occhi praticamente devastati dal terrore, ma cerca di mostrarsi minaccioso, o chissà che agitando le braccia. E mi blocco lì. Stringo il coltello. Spacol, abbaia Manche, anche se è troppo vigliacco per attaccare adesso che mi sono fermato. Chiudi il becco, Manche, dico. Spacol, ho detto chiudi il becco, grido, e finalmente la smette. Spacol, dice Manche incerto adesso. Deglutisco, cercando di liberarmi dalla pressione che ho alla gola. Incredibile tristezza che viene e cresce mentre guardo quell'essere che mi guarda. La conoscenza è pericolosa, e gli uomini mentono, e il mondo non fa che cambiare. Che io lo voglio o no, perché non è uno spacol. È un ragazzo femmina, dico. Un ragazzo femmina.